Sì, questa sera a grande richiesta sono arrivate tantissime mail, anche per il nostro Bruno Minniti. Piace, Bruno Minniti, piace, non c'è niente da fare. E quindi a grande richiesta, insomma, ascolteremo di nuovo. Ce ne sentiamo un'altra. Assolutamente, assolutamente. Bruno Minniti! Solo ecco, due secondi tecnici per capire se possiamo mandare subito in onda a Bruno. Ma sai anche la canzone qual è? A sorpresa la canzone, perché sì, noi vogliamo fare un po' tutto così, no? Tutto a sorpresa. Emiliano, la saluta. Sei un bel dolpino. Ecco, sicuramente è una canzone di Celentano. Beh, diciamo che Bruno Minniti è con Celentano, no? E sicuramente il titolo potrebbe essere Che cosa ti farei? Potrebbe essere, ma chi lo sa, ma chi lo sa. Vedi, è questa, eccola. Non dirti droga. troppo trucco che non mi piaci più, con tutto quel rossetto non mi sembri tu, con quel vestito azzurro come lo porti tu, la perle color burro si vedrà di più, sei molto bella sai che cosa ti farei, che cosa ti farei, se non fossi mia ti vorrei che cerco solo io a scordarmi di te non farmi il muso dai, tanto so che mi perdonerai anche se non ti va ma perché ami uno come me io non ti porto fiori, non mi ricordo mai ti porto poco fuori, hai ragione sai e se mi sveglio inverso, io mi rinchiudo in me e se alle carte ho perso, do la colpa a te ma dammi il tempo di spiegarti, amore mio abbassa quella luce e adesso vieni qui sentirti mia mi piace, siamo un po' così mi accordo troppo poco, che bello star con te ma come lo sopporti uno come me sei molto bella sai che cosa ti farei, che cosa ti farei se non fossi mia ti vorrei che cerco solo io a scordarmi di te non farmi il muso dai, tanto so che mi perdonerai anche se non ti va ma perché ami uno come me che bella